Weekend nero per lo sport pesarese. Bis, Alma Juventus Fano e WL hanno incassato sconfitte in casa e in trasferta nel fine settimana appena trascorso. Cominciando col calcio, i bianco-rossi di Mister Di Donato hanno perso per 3-1 contro la San Benedettese allo Stadio Benelli. Queste le parole dell'allenatore alla fine del match. Da commentare, perché pronti via eravamo sotto di 2-0 con due episodi negativi, abbiamo avuto la forza di reagire, abbiamo fatto gol, abbiamo avuto altre forse 3-4 palle pulite per fare gol e poi una nostra disattenzione su un calcio d'angolo e abbiamo subito il terzo gol. Primo tempo dove forse andavamo a fare 4-5 gol, siamo andati sotto di 3-1. Secondo tempo poi siamo partiti bene, dopo il rigore sbagliato siamo andati un po' in confusione, forse lì ci hanno tagliato le gambe e non siamo stati più noi. Purtroppo ci teniamo a portare a casa questi tre punti che per noi era importante. Oggi gli episodi li abbiamo portati al nostro sfavore, la fortuna che fra tre giorni si rigioca. Qui non c'è tempo da perdere, non possiamo pensare a oggi. Quando crei tutte quelle occasioni pulite purtroppo le devi buttare dentro, perché poi quando affronti una squadra forte come la San Manettese, dove c'è giocatori di esperienza, alla minima occasione puoi rischiare di subire gol e così è stato. Ancora per il calcio è stata una sconfitta pesante anche quella dell'Alma Juventus-Fano, che in trasferta contro il Legnago ha incassato tre reti dagli avversari. Il presidente Fatò Fidani si è detto deluso dalla prestazione e in dovere di chiedere scusa ai tifosi Granata anche per l'atteggiamento insicuro mostrato in campo dalla squadra, una delle cause che ha regalato agli avversari il primo tempo del match. Fatò Fidani ha poi concluso incitando i ragazzi a rimettersi in sesto per la prossima sfida, in programma mercoledì contro l'Arezzo. Anche per il basket i festeggiamenti sono stati rimandati. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro infatti torna senza i due punti dalla trasferta di Varese, terminata 81-68 per gli avversari e che segna la seconda sconfitta consecutiva per i Biancorossi. Sicuramente è stata una partita diversa da quella di Cremona, dove là siamo stati veramente abbastanza disastrosi, però anche oggi in primo quarto abbiamo subito troppi punti e anche oggi in primo quarto sempre da un giocatore. E' stato un mianno la volta scorsa, è stato a scuola questa volta qui e non possiamo concedere 26 punti il primo quarto a qualsiasi squadra. Quindi da lì sono iniziati un pochino i nostri problemi. Poi ci siamo un po' aggiustati, siamo riandati sotto, siamo ritornati in partita, però sì abbiamo fatto fatica, quello è sicuro. Loro sono stati aggressivi, 40 minuti tutto il campo a pressare il playmaker, a pressare le guardie, abbiamo fatto fatica. In attacco contro la loro pressione non abbiamo giocato con il ritmo nostro, non siamo riusciti a giocare con il nostro ritmo. Non abbiamo fatto buone scelte di tiro, ho compreso le ultime azioni, ma anche azioni prima dove eravamo magari in rimonta e siamo andati lì, abbiamo affrettato i tiri. Non è il nostro modo di giocare, dobbiamo riprendere a giocare come sappiamo. Speriamo che c'era il pesato ogni prima possibile, abbiamo bisogno della sua presenza sicuramente per risistemare un po' di cose. Unica nota positiva dello sport del fine settimana è quella che arriva dal calcio a 5 con la vittoria dell'Ital Service che ha sbancato per 2-1 il parquet della Sandro Abate a Vellino. Rete decisiva è stata quella di Borruto a due minuti dalla fine dell'incontro. È la decima vittoria consecutiva in altrettante partite disputate nel girone di ritorno per la squadra di Fulvio Colini, che grazie agli ultimi tre punti conquistati si conferma in vetta la classifica. Comunicazione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.